Radio Gamma, 40 anni di successo insieme Flavinsinna quello di carta, Flavinsinna quello vero, gli auguri con tutto il cuore, io che amo la radio, che fin da bambino ascoltavo la radio, i miei più... Guarda, neanche a far apposta, i migliori anni, i primi 40 anni di Radio Gamma e quindi i miei auguri più sinceri a Radio Gamma, almeno per altri 40.000 periodico per sempre. E quindi come dicono quelli bravi, ciao sono Flavinsinna, anch'io ascolto Radio Gamma, auguri!